Il primo prelubio Il primo prelubio Arrivati a questo punto, io di nuovo vi ringrazio tanto, vi ringrazio per essere intervenuti, vi ringrazio dei vostri applausi, speriamo di rivederci presto. Ave Maria. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.